Ciao, benvenuti all'opening della playlist scorci, mete, panorami e percorsi delle foreste casentinesi In questa playlist esploreremo virtualmente alcuni scorci, percorsi, mete delle foreste casentinesi Se questi video vi piacciono iscrivetevi al mio canale di Youtube, mettete un like oppure commentate questi video In questa puntata esploreremo in tempo reale, in auto, la strada lunga dell'Eremo E' una strada statale con pendenza molto dolce, poco trafficata dalle auto a parte in agosto E' per questo spesso usata dalle persone come passeggiata sicura nella foresta, restando tuttavia sull'asfalto Non è infrequente sulla sera in autunno incontrarci cinghiali, cervi e daini Per cui è sempre preferibile percorrere la rotabile a bassa velocità se la si attraversa appunto in auto Anche perché la strada è stretta Comunque la strada è mappata anche da Google Street View Quindi se pensate di percorrerla in modo virtuale con del 3D E' possibile rintracciarle Quindi tale percorso da Google Street View Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.